Salve, sono Anna Schweinspeck, coordinatrice del Fruchtandel Magazine per l'Italia e responsabile del Centro Sud. Il nostro giornale si rivolge in primo luogo al mondo del trade e tratta la commercializzazione dei prodotti orti frutticoli freschi. Mi occuperò della diffusione delle comunicazioni enerenti alle iniziative del Consorzio di tutela del limone di Siracusa IGP sui nostri mercati di maggior riferimento come Germania, Austria e Svizzera. Nei prossimi due anni mi attiverò come ufficio stampa per il Consorzio cercando di assicurare una divulgazione ottimale delle notizie sui mercati esteri di lingua tedesca.